Uno dei problemi piu sentiti dagli investitori di prima esperienza e sicuramente quello su come investire senza rischi. La domanda è tutt'altro che banale e comporta una serie di decisioni da valutare attentamente. Un risparmiatore, infatti, ha davanti a sé un'ampia scelta di strumenti finanziari su cui puntare, tutti con i suoi pro e i suoi contro e tutti validi in particolari situazioni e pericolosi in altre. Prima di vedere la carrellata di strumenti finanziari disponibili per investire senza rischi, ti consiglio di iscriverti al canale YouTube in modo da rimanere sempre aggiornato sulle nuove pubblicazioni e di iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link che trovi giu in descrizione e accedere così anche ai 7 video gratuiti sugli investimenti. Bene, iniziamo col primo strumento finanziario, investire in BTP e altri titoli di Stato. Sono in pratica i titoli di Stato come BOT, dal trimestrale agli annuali di tipo 0 coupon, oppure CTZ, biennali sempre di tipo 0 coupon, i CCT da 2 a 10 anni a tasso variabile e i BTP da 2 a 30 anni a tasso fisso. Gli interessi delle obbligazioni statali italiane eseggirono intorno al tasso dell'inflazione, qualche volta inferiore per le durate brevi, altre volte leggermente superiore per le durate in genere superiore ai 5 anni e quindi sono adatti alla protezione del capitale. Tuttavia, è bene chiarire che i titoli di Stato non sono strumenti utili al fine di incrementare la propria ricchezza. Il secondo strumento finanziario è sicuramente quello di investire in azioni. Sono titoli legati all'andamento dell'economia, più precisamente alle singole aziende che esse rappresentano. Pertanto, essi sono soggetti ad ampia oscillazione di quotazione. Sicuramente, nel lungo periodo, e per lungo periodo intendo non meno di 10 anni, il rentimento dell'investimento in azione batte qualunque performance degli altri strumenti finanziari. Tuttavia, le azioni devono sempre essere comprate in momenti in cui ci sono quotazioni basse e rivendute quando le quotazioni sono elevate. Questo significa che non puoi investire e disinvestire quanto ti pare, altrimenti rischi di perdici un sacco di soldi. Significa anche che, se hai in mano azione da oltre 10 anni, potresti comunque ritrovarti con un controvalore inferiore a quello di partenza ed essere costretto ad aspettare degli anni prima di poter rivendere per ottenere un ricavo decente. In ogni caso, sono titoli adatte a incrementare la propria ricchezza e il proprio capitale, se ovviamente però le utilizzi correttamente. Continuiamo nella disania con l'investire in fondi comuni. Possono essere composti sia da titoli obbligazionari che azionari o da entrambe contemporaneamente. Il comportamento dei fondi comuni di investimento ricalca quello dei titoli presenti all'interno. Pertanto un fondo obbligazionario avrà una resa bassa ma costante, mentre invece un azionario oscillerà come le azioni. Il vantaggio del fondo deriva dal fatto che, al suo interno, è presente un vasto paniere di titoli. Questo permette di spammare il rischio di insolvenza dei singoli stati o delle singole aziende, ottenendo quindi un rischio intrinseco più basso. Di contro, un fondo ha dei costi di gestione più elevati rispetto all'acquisto dei singoli titoli. Di conseguenza, in alcuni casi, il fondo stesso può andare in perdita nel tempo. Devi sempre considerare bene il fondo da scegliere e le modalità di utilizzo dello stesso. Un altro metodo che puoi utilizzare è quello di investire nelle assicurazioni. In genere, sono piazzate tramite degli agenti quali vengono a bussare alla tua porta in stile venditore di aspirapolvi. La particolarità di queste polizze miste è quelle che hanno una copertura assicurativa al loro interno. Diciamo che possono avere qualche utilità. Tuttavia, questi prodotti hanno sempre dimostrato rese nulla nel tempo, se non addirittura negative, e possono essere sostituiti da prodotti più performanti e meno costosi da mantenere in termini di commissione. Non possiamo poi non considerare l'investimento in immobili. Ho gia' dibattuto questo argomento su un altro mio video sull'investimento in immobili e quindi non mi dilungo ulteriormente su questa tematica. Voglio solo farti notare che il mercato futuro è previsto in forte contrazione. Perciò, ora come ora, investire in immobili potrebbe essere una cattiva soluzione. Soprattutto qua in Italia esiste la convinzione radicata, a mio parere è solamente un becero luogo comune, che il mattone sia un modo per investire senza rischi. Nulla di piu' sbagliato. Altro strumento finanziario che puoi utilizzare sono i fondi pensione. Ne esistono di varie tipologie, a fondo chiuso, ci sono i fondi aperti, i fondi di categoria, i fondi privati, eccetera. La particolarita' dei fondi pensione sta appunto nel fatto che servono a creare una pensione. Di conseguenza, non investire su questi strumenti se non e' proprio per crearte una pensione. Perche' molti che fanno aprono un fondo pensione con l'intenzione di scambiarlo prima. Anche se spesso questa è un'operazione fattibile, deve essere esercitata solo ed esclusivamente in caso di estrema necessita'. Questo perche' le penali o i costi di esercizio di questi prodotti rendono la risoluzione del contratto anticipata parecchio costosa. Detto questo, posso aggiungere che ogni strumento finanziario ha i suoi pro e i suoi contro. Non esiste lo strumento adatto a tutte le esigenze, ne' quello che non serva a niente. Ogni prodotto e' stato creato per risolvere una specifica esigenza e per tale esigenza deve' essere adoperato. In definitiva, investire senza rischi e' una tematica complessa da trattare, perci'o necessita della mano di un professionista che almeno ti possa indicare o ti sveli da dove cominciare a guardare. Ok, chiudo questo video ricordandoti di iscriverti al mio canale YouTube e di cliccare nel link giu' in descrizione per accedere ai 7 video gratuiti sugli investimenti.